Giuseppe Amaro, secondo classificato a Vullipopius Got Talent, come ti senti? Ma benissimo perché ero praticamente qua con i miei genitori e basta e arrivare secondo è stato difficile quindi esserci arrivato è stato un grande passaggio perché era veramente difficile arrivare qua, fino qua secondo Evidentemente la giuria ha apprezzato molto La giuria ha apprezzato molto, esatto perché ero qua solo con i miei genitori quindi tutti gli altri erano con me era molto difficile che tutti mi votassero e la maggior parte delle persone invece mi ha votato e mi ha fatto arrivare fino a questo posto Complimenti e grazie per essere stato con noi Grazie mille anche a voi e speriamo per la seconda edizione Esatto, magari rivedremo chi lo sa, grazie mille e complimenti